Manola Di Pasquale chiude il suo mandato da presidente dell'Istituto Zoprofilattico d'Abruzzo e Molise e traccia il bilancio del quadriennio alla guida dell'ente. Tanti i risultati raggiunti a partire dal riordino amministrativo ottenuto grazie all'approvazione dei bilanci dal 2013 al 2015, passando per le buone notizie riguardanti il personale che vedrà la stabilizzazione di 87 precari. I bilanci non erano approvati dal 2013 per cui l'istituto era paralizzato sia negli sviluppi della progettualità che sia nella crescita strutturale. Con l'approvazione dei bilanci si è riuscito intanto a svingolare 6 milioni di euro che erano finanze proprie dell'istituto con il quale sono stati avviati subito tutti i lavori di ristrutturazione e di modernamento delle strutture e soprattutto dei laboratori che oggi sono al passo del tempo anche se stiamo realizzando quelli nuovi con il masterplan e quindi ai fini di renderli ovviamente all'avanguardia e in concorrenza con quelli europei ma anche per dare maggior sicurezza al mondo del lavoro. Le approvazioni dei bilanci hanno permesso anche di svingolare le incentivazioni alle retribuzioni del comparto a circa 212 dipendenti che non prendevano una parte della retribuzione dal 2011. Il famoso emendamento del 2018 della Lorenzin che abbiamo fatto con l'aiuto anche lo ricordiamo dell'on. Paolo Zancredi che prevedeva stabilizzazione dei precari della ricerca dell'X e dell'IZS d'Italia prevede la possibilità adesso di all'attuazione sono arrivati 1 milione e 4 proprio per l'attuazione della stabilizzazione dei transetti precari che si verificherà entro il 31-12-2019. Senza tralasciare i progetti per la realizzazione della nuova sede a Colleatterrato. I lavori del primo lotto prenderanno il via nei primi mesi del 2020. 15 milioni sono già stati aggiudicati e da poco inizieranno conclusi i progetti definitivi. I lavori non ci sono contenziosi e quindi la ditta è stata già entrata nel pieno dell'attività che si è aggiudicata e sono già in corso la giudicazione degli altri 10 milioni che saranno tutti realizzati come nuova sede, come nuovi laboratori, come nuove ricamere stagne a Colleatterrato. Rispetto all'area di Campo Boario che era stata anche al centro del tentativo di transazione di intesa con il Comune, cosa lascia in eredità il suo mandato? Intanto qui abbiamo l'area che rimane dell'istituto perché nel progetto della nuova sede si prevedeva lo smantellamento e la vendita di questa zona con il rischio che rimanessero i ruderi come abbiamo in Teramo. In verità quello che noi abbiamo fatto è che si è diviso due poli, il polo più servizi e amministrativo che si ritroverà qui a Campo Boario e il polo più scientifico di laboratori e di altro che sarà collocato a Colleatterrato. Il futuro dell'istituto in attesa della nomina del nuovo presidente da parte della regione Abruzzo è roseo secondo l'avvocato di Pasquale. Intanto la governanza dell'istituto rimane bene perché noi abbiamo ieri proprio approvato il bilancio di previsione che scade il 31 dicembre che doveva essere fatto e il 31 dicembre proprio per mettere in sicurezza l'istituto. Per cui anche se la politica dovesse arrivare a gennaio nel definire il CDA l'istituto non avrà nessuna ripercussione perché è stato messo in sicurezza.